Italiano in un minuto. Episodio 49. Rendere in italiano. Ciao, io sono Ilaria di Lase.com e benvenuti al mio podcast Italiano in un minuto, il podcast per migliorare l'italiano in un minuto poco più. Rendere è un verbo piuttosto complesso da capire e da usare per coloro che studiano l'italiano. La traduzione di rendere è to make, ma non sarebbe giusto considerare rendere sinonimo di fare. Rendere, infatti, è più complesso e articolato e se volessi spiegarvi praticamente cosa significa il verbo rendere in italiano, direi che rendere significa far diventare. Implica quindi una specie di cambiamento che è avvenuto o che sta avvenendo. Ad esempio, ho deciso di rendere la mia vita un capolavoro, che è molto simile a ho deciso di far diventare la mia vita un capolavoro. Di nuovo, in inglese useremo il verbo to make, ma in italiano la scelta di fare sarebbe troppo debole e non corretta al 100%. Cos'altro dirvi? Se volete approfondire ulteriormente il verbo rendere, non perdete la mia spiegazione approfondita di questo verbo sul mio podcast Italian Language oppure sul mio blog. Vi lascio il link nella descrizione.